Musica Nuova rete ospedaliere in Sicilia, l'assessore Razza ha firmato il decreto recependo le prescrizioni del Ministero. Fatture false per evadere le tasse, sequestro da 1,3 milioni per la N-Press. Si tratta del maggiore distributore di giornali in Sicilia. Ragusa in manette truffatore seriale di vecchiette, l'uomo si spacciava per avvocato o maresciallo. Buonasera e bentrovati alla seconda edizione di Media News, oggi è sabato 12 gennaio. In apertura nuova rete ospedaliere in Sicilia, l'assessore Razza ha firmato il decreto recependo le prescrizioni del Ministero. Tagliati reparti e 85 primari, ecco le novità. L'assessore Ruggero Razza ha firmato ieri il decreto di adozione della nuova rete ospedaliera, nel quale recepisce tutte le prescrizioni del Ministero e rimodula la bozza di proposte in base al decreto Balduzzi. Nel pubblico diminuiscono i reparti, si passa da 839 a 754 e dunque scompaiono 85 primari. Il piano divide gli ospedali in quattro categorie, idea di secondo livello, i poli più grandi che hanno al loro interno i reparti di ogni disciplina, idea di primo livello, strutture di grandi dimensioni, i presidi di base e quelli di zona disagiato alto rischio. La Sicilia verrà divisa in quattro bacini sanitari. Razza ha precisato che il Governo ha scelto di non chiudere i piccoli presidi di provincia e dunque almeno nel medio periodo è previsto un potenziamento delle piccole strutture proprio con le emissioni di nuovo personale. Guardando i singoli ospedali, il piano prevede per esempio il ripristino del punto nascite con l'unità operativa complessa a termini merese. A Corleone ci saranno anche i reparti di medicina, chirurgia, pediatria, psichiatria e neonatologia e il pronto soccorso. Razza ha ricordato che a Partinico c'è il più importante reparto di diabetologia e cura del piede e ci sarà ora una unità operativa semplice in più, malattie endocrine. A Petrelia Sottana ci saranno i reparti di ortopedia e di cardiologia ma non il punto nascite, bocciato da Roma. Per l'ASP di Agrigento il San Giovanni di Dio sarà dea di primo livello. A Canicattisi passeranno 92 a 118 posti letto e allicata da 105 a 120. Razza ha confermato che entro marzo 2020 entrerà in funzione la cardiochirurgia pediatrica al civico di Palermo e c'è la volontà di attivarne una seconda taormina. La nuova mappa prende in considerazione anche i reparti della sanità privata. Anche lì ci sono riduzioni che riguardano strutture superflue ma non intaccano il numero complessivo dei posti letto e dunque il budget di ogni clinica. La IUP tra l'altro ha collaborato con la regione nella stesura del piano e si dice soddisfatta dal via libera arrivato da Roma. Armi e droga nel casolare di Vincenzo Greco, l'operaio di 36 anni uccisa a Belmonte Mezzagno. Si continua a seguire la pista mafiosa, la sua uccisione sarebbe forse un regolamento di conti. Emergono altri dettagli sull'omicidio di Vincenzo Greco, il manovale di 36 anni freddato da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si stava recando presso il suo allevamento di animali in via Portella della Paia, una diramazione della strada provinciale 38 che porta da Belmonte Mezzagno a Santa Cristina Gela. Ed è proprio all'interno del casolare che sono emersi nuovi dettagli utili alle indagini sul movente dell'omicidio. Tre armi, una pistola a giocattolo, un fucile a canne sovrapposte ed una pistola semiautomatica, un passamontagna e 5.000 euro in contanti erano all'interno della struttura. Nel fuoristrada di Greco invece è stato trovato un panetto di hashish di 100 grammi. Le armi e la droga ritrovate sono un tassello importante per le indagini. Continua ad essere seguita la pista mafiosa che darebbe una nuova lettura al caso. L'omicidio di Greco potrebbe dunque essere un possibile regolamento di conti. Come già ricordato, il suo giro della vittima era Filippo Casella, ucciso nel 1994. Uno dei tanti omicidi della faida mafiosa di Belmonte Mezzagno per scalare i vertici. Vertici che, nell'ultima operazione denominata Cupola 2.0, sono stati azzerati e che coinvolgevano anche il mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno. Fatture false per evadere le tasse. Sequestro da 1,3 milioni per la N Press. Si tratta del maggiore distributore di giornali in Sicilia. Sotto inchiesta Giovanni Nangano, legale rappresentante. Fatture false per evadere le tasse. Sequestro da 1,3 milioni per la N Press. Con sede a Villa Abate, ovvero il maggiore distributore di giornali e riviste in Sicilia. In azione, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziere di Palermo, che su disposizione del GIP del Tribunale di Termini Merese, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie, per un valore complessivo pari a oltre 1,3 milioni, nei confronti dell'impresa che opera nel settore della distribuzione editoriale. Sotto inchiesta è finito Giovanni Nangano, legale rappresentante della N Press. Nangano è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Con lui, sotto inchiesta, ci sono altre 5 persone, per lo più dipendenti, che avrebbero fatto da prestanome ad aziende inesistenti se non sulla carta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica Termitana, si sono fondate sugli esiti di alcuni controlli fiscali, eseguiti dalle fiamme gialle nei confronti dell'azienda, che hanno fatto emergere un circuito di frode fondato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture false. Più in particolare, spiegano dalla Guardia di Finanza, tramite appalti privi di requisiti di legge, la società ha finto di avvalersi dei servizi di altre imprese, che si sono rivelate prive di autonoma organizzazione. Il loro unico scopo, infatti, è stato quello di apparire come datori di lavoro di persone che hanno invece sempre operato alle dipendenze, secondo le direttive della committente. Ovviamente queste prestazioni sono state fatturate, talvolta gonfiando anche gli importi e permettendo alla società editoriale di detrarre l'IVA addebitata e ottenere quindi un consistente vantaggio fiscale. Cambiamo argomento. Ormai da giorni il Comune di Palermo ha potenziato tutti i servizi di assistenza e senza dimora, ampliando il numero di posti letto nei dormitori e, grazie anche alla disponibilità di decine di volontari, ha aumentato i servizi notturni in strada. Da lunedì saranno attivi altri due nuovi poli di accoglienza di urna e notturna realizzati con i fondi del PON Metro. Vediamo. Due nuovi poli per l'accoglienza di urna e notturna di persone senza dimora a Palermo. Un progetto che contrasta la povertà abitativa realizzato con i fondi del PON Metro gestiti dal Comune, da enti del privato sociale Croce Rossa Palermo. Da lunedì saranno operativi i poli notturni e diurni San Carlo e Santa Rosalia, in vicolo San Carlo 62, e centro Agape a piazza Santa Chiara 10. L'avvio del terzo polo è programmato entro la seconda settimana di febbraio. L'accesso ai poli notturni è previsto su segnalazione di un'unità operativa del Comune di Palermo. In ogni struttura, quattro posti saranno riservati a persone da accogliere in situazioni di necessità e urgenza. Oltre alla realizzazione di tre poli per l'accoglienza di urna, per un totale di circa 30 posti e notturna 72 posti, il progetto prevede anche l'attivazione di un'unità di strada per il primo contatto con chi si ritrova a vivere in condizioni di estrema marginalità. I dormitori accoglieranno gli ospiti durante le ore notturne, assicurando i bisogni primari, come l'izione personale, il pasto serale, la prima colazione e la lavanderia. Grazie alla sinergia tra operatori pubblici e del privato sociale, le strutture garantiranno anche il supporto psicologico, l'orientamento e l'eventuale invia ai servizi sociosanitari del territorio. Negli spazi dei poli diurni, gli ospiti potranno invece usufruire di servizi sanitari e saranno coinvolti in attività di socializzazione, formazione e orientamento al lavoro. Per ogni ospite sarà redatto anche un progetto individualizzato da condividere con gli operatori del Comune di Palermo per l'elaborazione di un progetto globale di presa in carico. Lo scopo ultimo dell'intervento è infatti favorire la reinclusione sociale e accompagnare chi vive una condizione di disagio abitativo e marginalità verso la piena autonomia. Il sindaco e l'assessore Mattina hanno ringraziato tutti gli enti e gli uffici coinvolti che hanno mostrato grande sensibilità e attenzione in sintonia con lo spirito che ha animato la progettazione degli interventi. Per contattare la centrale operativa della Polizia Municipale per l'emergenza fredda in città, il numero telefonico attivo è 091 673 3432. Agitazione all'istituto comprensivo Montegrappa Sanzio di Palermo. La struttura ospita la scuola dell'infanzia e quella primaria per un totale di circa 800 bambini. Per loro il ritorno dalle vacanze natalizie non è stato dei migliori. Termosifoni spenti e temperature gelide. La nostra protesta è nata proprio per questo motivo, per chiedere al comune, a chi di competenza, di fare sì che si accedano i tempi perché le temperature sono quelle che sono e noi abbiamo bisogno che i nostri figli in classe stiano in un ambiente confortevole, idoneo per loro poter studiare e non essere privati del diritto allo studio. Sua figlia oggi è rimasta fuori con lei? A casa. Come si sta a scuola senza riscaldamenti? È impossibile. Il suo figlio presumibilmente è qui con lei oggi? Sì, è a casa perché le temperature sono troppo rigide. Ovviamente non abbiamo fatto entrare, abbiamo fatto questa scelta di non fare entrare i bambini a scuola. Cosa ha detto a suo figlio? Come ha spiegato? Lui lo sa benissimo. Hanno loro manifestato il loro disagio di stare in classe perché non possono stare ovviamente con quattro felpe perché le temperature sono davvero troppo basse. Si toccavano i 10 gradi in classe l'altro giorno quindi non era impossibile. Poi il mio figlio è nel presso prefabbricato quindi ha maggior ragione un prefabbricato e subisce ovviamente delle ripercussioni termine grosse quindi quando c'è caldo c'è caldissimo e quando c'è freddo c'è freddissimo. I bambini hanno avuto veramente tanto freddo, le maestre hanno messo delle stufette dentro le classi, la preside ovviamente ha fatto quello che poteva però a quanto pare si sono fermate le cose dall'alto. Forse dal comune non arrivano le finanze per coprire e pagare queste spese. Il comune è intervenuto tempestivamente. Purtroppo le condizioni climatiche non ci hanno aiutato. Si sono contemporaneamente rotte due impianti termici separati. A quanto pare già è in fase di acquisizione il pezzo mancante per Montegrappa e mentre per il prefabbricato è previsto un lavoro complessivo di cui è stata autorizzata una spesa di più di 16.000 euro che partirà nei prossimi giorni. Non appena gli enti comunali mi daranno conferma della tempistica convocherò il Consiglio d'Istituto per vedere come ovviare alla situazione che al momento si è creata. Però dobbiamo semplicemente avere la pazienza per poter garantire il regolare svolgimento delle attività. Sì, assolutamente il diritto allo studio va garantito per tutti, non soltanto nelle scuole della città in Vialo Bertà e in Vialo Tar Bartolo ma anche nelle periferie. Qui a Montegrappa i ragazzi hanno la necessità di tornare nelle loro classi, trovarle accoglienti con un minimo di possibilità di sedersi e fare serenamente le lezioni. Non è pensabile che i ragazzi siano costretti a stare a casa perché a scuola vengono a prendere la febbre. Abbiamo incontrato la presi e da parte sua comunque, devo dire la verità, grande collaborazione. Insomma, un professionista che ha subito allertato il comune. Sembrerebbe che anche la giornata di oggi in qualche modo sia stata risolutiva per garantire che i ragazzi possano tornare a scuola. Ragusa, in manette truffatore seriale di vecchiette, l'uomo si spacciava per avvocato o maresciallo e chiedeva 5.000 euro per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal nipote delle anziane prive di copertura assicurativa. Avrebbe chiesto fino a 30.000 euro per risarcire la vittima di un incidente stradale provocato dal nipote senza copertura assicurativa. Fingendosi così un avvocato o un maresciallo ha preso di mira donne anziane chiamandole al telefono. Poi ha chiesto loro del denaro, quote che potevano arrivare anche a 5.030.000 euro. È accaduto a Ragusa dove le indagini sono partite nel mese di giugno 2018. Grazie alla collaborazione delle vittime, gli investigatori sono riusciti a cogliere qualche elemento utile per poter proseguire le indagini come la macchina utilizzata dal truffatore che è stato arrestato. L'uomo complessivamente ha truffato i ragusani per oltre 25.000 euro in quattro occasioni. È possibile che siano ancora numerosissime le vittime del truffatore sull'intero territorio nazionale e per tale ragione chiunque dovesse riconoscere l'autore del reato nel video diffuso dalla polizia può recarsi presso le questure o commissariati più vicini al luogo di residenza per denunciare i fatti. Per aumentare l'ansia delle vittime e accelerare la consegna del denaro il truffatore raccontava che il nipote si trovava in stato di fermo e non poteva avere contatti telefonici. Insomma un risarcimento che avrebbe liberato il nipote e avrebbe chiuso la vicenda. 103 controlli e 46 sanzioni sono l'esito dei controlli della polizia municipale predisposti per il contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti a Palermo. 103 controlli e 46 sanzioni compiuti dal lunedì scorso sino ad oggi sono l'esito dei controlli della polizia municipale predisposti per il contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti in città. Nel quadro degli interventi su input del sindaco Leoluca Orlando il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano che prevede il coinvolgimento di tutte le pattuglie del corpo a prescindere dallo specifico servizio del nucleo di appartenenza con puntuali disposizioni operative a tutti gli agenti coordinati per le specifiche competenze in materia di smaltimento dei rifiuti dal responsabile del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana. Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi in abiti civili e autocivetta sia nelle zone in cui è già attiva la raccolta differenziata per verificare il corretto conferimento nei giorni e negli orari stabiliti sia nei quartieri in cui la stessa non è attiva in particolare nei siti segnalati dai cittadini e dalla RAP come discariche abusive consuetudinarie. Sulle 46 sanzioni scaturite dai 103 controlli 19 sono state combinate per conferimento fuori orario 22 per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziabili una per trasporto sfabbricidi, due per abbandono d'ingombrante e due per violazioni al codice della strada per un totale di oltre 6.200 euro. I siti in cui gli agenti hanno combinato il maggior numero di sanzioni sono via Galletti, a seguire Fondo Galletti, via Gorizia, via Messina Marina, via Castello, via Cordova, via Bonanno, via Emilia, via Perpignano, piazza Strauss, via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, piazza Florio, piazza Sturzo e via Cilluffo. Parliamo di sanità. Attivato all'ospedale Giglio di Cefalù, l'ambulatorio di oncoematologia, il presidente Albano, orgogliosi di ampliare l'offerta sanitaria. È stato attivato alla Fondazione Giglio di Cefalù un ambulatorio di oncoematologia sarà curato dal dottore Antonio Moulet, oncoematologo specializzato nella diagnosi e cura dei processi linfoproliferativi. Siamo orgogliosi, ha commentato il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, di ampliare offerta sanitaria e di poter dare una risposta nel territorio a tanti pazienti che erano costretti a recarsi nell'area metropolitana. Lo facciamo, ha aggiunto, con un professionista di grande esperienza, avvalendoci per l'iter diagnostico di una convenzione attivata con il Laboratorio di Anatomia Patologica e Biologia Molecolare dell'IEO di Milano. L'ambulatorio di oncoematologia è stato inserito nella programmazione sanitaria della struttura tutti i mercoledì pomeriggio per accedere alle visite necessarie alla prescrizione del medico di famiglia e quindi la successiva prenotazione attraverso il CUP della Fondazione. L'attività, ha sottolineato il dottore Moulet, sarà rivolta alla diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche con particolare riferimento ai processi linfoproliferativi cronici come linfomi, leucemie croniche, linfatiche e mielomi. L'ambulatorio consentirà inoltre a tutti i pazienti affetti da patologie oncoematologiche di effettuare periodiche visite di controllo. Il Giglio di Cefalu è in grado di offrire a questi pazienti, per il loro follow-up, un'indagine diagnostica innovativa attraverso l'impiego della risonanza magnetica. L'ambulatorio di oncoematologia opera all'interno dell'unità di oncologia diretta da Massimiliano Spada. Su Real Time la trasmissione Take Me Out in onda tutti i martedì alle 21.10 è condotta da Katia Follesa. Tra i protagonisti alla ricerca dell'amore ha anche un giovane palermitano, Sebastiano Anello. È stata un'esperienza assolutamente indimenticabile, unica nel suo genere, perché oltre a me, che ero l'unico palermitano, c'erano ragazzi di tutta Italia, 40 ragazzi al giorno, circa, insieme, a registrare le produzioni televisive, le puntate, a mangiare insieme, a svegliarci, a fare colazione in hotella, a divertirci poi la sera, veramente a tavola, a pranzo, c'era tutta quanta l'Italia unita. Ho conosciuto dei ragazzi speranzosi, belli, carismatici come me e quindi sono delle esperienze che non fai durante la tua giornata, ecco, la tua quotidianità nella tua città. Quindi è stata veramente un'esperienza unica che consiglio veramente a tutti, consiglio veramente a tutti di partecipare comunque ad una trasmissione televisiva in qualità di concorrente perché apre la mente, apre il mondo, si conoscono tante persone diverse. Tu comunque hai cominciato qui, proprio a Palermo. Sì, io ho cominciato la mia carriera proprio qua, a Tele One, esatto, era il 2011 quando presentai la prima trasmissione, Cuori di Fulmine, che è ancora in onda sul web, poi feci anche Palermo Bene, che fu il primo reality show siciliano inventato da me, un successo strabiliante per l'epoca, veramente, infatti qui si era tutti contenti e io appunto provo ancora a divertirmi come posso andando in televisione adesso nei canali nazionali non più locali, anche se comunque il mio cuore è qua perché le mie radici sono nate qua e la gavetta, la gavetta, quella che ti tempra, che ti forma, non si deve scordare mai. Comunque l'esposizione, non necessariamente la sovraesposizione, genera anche commenti cattivi e questo è successo anche a te? Eh sì, vabbè, praticamente credo che prima o poi ci dovrò fare l'abitudine qualora dovessi continuare appunto a perseguire questa strada televisiva. Sì, ci sono col mondo del web che si è confermato e affermato ancora di più in questo nuovo millennio ci sono delle persone che si nascondono dietro una tastiera chiamati haters, persone che portano odio perché non hanno nulla da fare durante i giorni, è questa la verità, che ti offendono, ti denigrano senza alcun motivo, soltanto perché tu sei un po' esposto, non tantissimo e adesso non esageriamo basta già una piccola sovraesposizione che già comunque vieni attaccato da parte del web perché c'è anche una parte molto bella del web di persone che ti capiscono, che leggono i tuoi articoli che vedono con interesse davvero quello che fai e che ti sostengono. Sì, io sono stato vittima per non aver fatto nulla, per aver semplicemente partecipato ad una trasmissione televisiva, canale nazionale, non è la prima oltretutto che faccio che è una notizia oltretutto che riguarda me, non arbitria la libertà di nessuno, non va a toccare proprio nessuno essere attaccati per questo. Bene, io al contrario di altri che magari lasciano correre ho preso le offese, perché una cosa è commentare la notizia e essere d'accordo o meno una cosa sono le offese personali, quelle non vanno bene, è un reato di diffamazione quindi ho deciso anche di denunciare, querelando chi mi ha offeso in modo tale che si tolga un po' il vizio, che abbia una bella lezione la prossima volta prima di commentare, offendendoci pensi due o tre volte lasciate comunque correre, perché gli haters, chi vi odia, chi si nasconde dietro una tastiera, i cosiddetti leoni da tastiera ci saranno sempre che poi dal vivo sono degli agnellini perché non ti sanno dire in faccia quello che ti dicono invece dietro una tastiera, fanno veramente una brutta figura Piccoli vignaioli per la prima volta insieme in Sicilia, a Palermo la rassegna dei vini franchi fino al 14 gennaio Amanti dei vini raccolta fino al 14 gennaio con Not, rassegna dei vini franchi che riunisce a Palermo per la prima volta al centro del Mediterraneo oltre 100 piccoli produttori e vignaioli dall'Italia e dall'estero con più di 500 vini da degustare Appuntamento ai Cantieri Culturali della Zisa Durante le giornate della fiera si svolgeranno 5 seminari tematici tenuti da critici del vino e personaggi del mondo enogastronomico Matteo Gallello che terrà un approfondimento dedicato ai territori e ai vitigni del sud Giampaolo Gravina e Fabio Rizzari che presenteranno alle 17 il loro ultimo lavoro editoriale scritto insieme ad Armando Castagno vini artigianali italiani Piccolo repertorio per l'anno 2019 in abbinamento ai vini dei vignaioli raccontati nel libro Sandro Sangiorgi fondatore di Portos che farà il punto con una degustazione e riflessione dal titolo Il vino naturale, le luci e le ombre sull'evoluzione di questo mondo produttivo e sulle sfide nuove poi Gaes Accoccio di naturadelecose.com che condurrà alla degustazione Il vino umano come energia tra scienza e magia tecnicina, cultura, mistificazione Domenica alle 15 la cuoca Bonetta dell'Oio insieme al panificatore Davide Lungoni si cimenteranno domenica con l'aiuto di Francesco Penso Vecchio in una degustazione di pane e vino un percorso mistico e tecnico tra pani dei grani autoctoni e vini naturali uno dei focus dell'evento è la biodinamica Notte infatti ospiterà l'incontro annuale di Renaissance Italia l'associazione facente parte di Renaissance des Appellations fondata dalla padre della viticoltura biodinamica Nicolas Jolie che conta con oltre 200 produttori nel mondo si articolerà in un ciclo di approfondimenti inedito sull'isola per produttori, operatori e amanti del vino promosso insieme ad Agribio Italia sul metodo agricolo ispirato ai principi antroposofici di Rudolf Steiner sotto la conduzione straordinaria dello stesso Jolie Notte sarà una festa per tutti porterà i vignaioli e i loro vini nei ristoranti nelle pizzerie, nelle enoteche, nelle gallerie d'arte nelle botteghe del gusto di Palermo e di altre città della Sicilia con i Notte Off fuori salone accorna la tavola e al cibo strutturati per mettere in rete ristoratori e produttori con l'obiettivo di diffondere la cultura dei vini franchi e incuriosire gli appassionati del vino Anche per oggi è tutto grazie per averci seguito appuntamente ai prossimi notiziari di Media News Grazie a tutti 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 Grazie a tutti